Buongiorno, siamo qua di nuovo, dobbiamo ringraziare tutta la vostra premura che avete avuto chiedendoci se ci era successo qualcosa, non è successo nulla perché Heidi è stata in montagna, allora mancava il cameraman, quindi niente video, ha provato a sciare Heidi, però è venuta a casa tutta intera, che sei tutta intera, col naso sbrucciacchiato però. Bene, allora riprendiamo le nostre le nostre scorribande youtuber si dice, oggi vi presentiamo un nuovo filato, non vedevamo l'ora, si chiama Fuffi, sembra un cane, però è peloso quindi ci sta, i cani sono pelosi quasi tutti. Bene, Fuffi, cos'è Fuffi? Fuffi è un filato che da solo facciamo un po' fatica ad usarlo, per i coraggiosi però si può usare, perché io adesso vi mostro i campioni. Allora, sono gomitoli da 50 grammi e sviluppano 500 metri, quindi già questo vi dice la finezza del filato. La sua composizione è 50 super kid moher, devo leggere perché non lo conosco a memoria, quindi 50 super kid moher, super kid moher, 18% l'anamerino e il 32% di poliammide. Quindi, la poliammide è all'interno, all'esterno ci sono le due fibre naturali, è praticamente un moher. Vi faccio prima vedere i campioni, così vi rendete conto a modo. Questo l'ho lavorato col ferro numero 3. Questo l'ho lavorato col ferro numero 4 e qui ho lavorato il filato doppio, con un ferro 4. Quindi, lo alzo perché è da vedere anche così, la peluria incontroluce, ce la facciamo così? Sì. Ok. La morbidezza perché è una nuvola, una pallina. Allora, abbiamo detto i ferri, poi ho anche i campioni all'uncinetto, ho fatto la stessa cosa. L'ho lavorato a un filo solo, ho fatto solo del punto alto per farvi vedere come si attorciglia bene su se stesso. Quindi, uncinetto numero 4, lì ho usato, e qui filato doppio, che si vede anche. Abbiamo bensì 14 colori, allora i campioni te li metto un attimo da parte, che poi se li vorranno rivedere. Ma la luce è buona, Heidi, perché i colori sono molto belli. Partiamo con il colore bianco, che non è proprio un bianco ottico. Lo preferisci così? No. Così. Però dopo fa vedere anche tutto il pelino che vola lì, visto che è un cane. Fuffi, vi presentiamo Fuffi. Allora, bianco, perla. E c'è anche il nero, eh? Nero. Poi abbiamo... Te li metto sopra? Sì. Cielo. Nuvola. E Island. Poi abbiamo... Poi abbiamo... Questo come l'abbiamo chiamato? Caffè. E corda. No, metti verde acqua, così si vede la differenza. Ah, è verde acqua. Perfetto. Poi abbiamo... Malva. Lavanda. Aspetta che te li metto meglio. Malva, lavanda. E... Rosa. Un rosa delicatissimo. E ciclamino. E per finire... Il rosso. Pup. Madonna. Vabbè, uno è per terra. Lo raccogli? No. Dopo come faccio? Te li su. C'è ciclamino per terra. Vado io a raccoglierlo. Ecco qua. Li vuoi vedere anche così? Te li faccio vedere anche così? No. A me piacciono più così i gomitoli. A me no. A te no. Perfetto. Allora, quindi, è già a catalogo. Eh, Heidi? Sì. Sarà una linea continuativa. Quindi su questo ci facciamo affidamento, perché non è né uno stock, né un'occasione, ma una linea continuativa. Ne abbiamo comprato un bel po'. Eh, Heidi? Heidi non era molto contenta, perché gli spendo tutti i soldini del conto. Infatti. Eh, va bene. Allora, ricapitoliamo. 50 grammi, 500 metri, 50% Super Kid Moher, 18% Lana Merino e il 32% di Poliammide. Va bene? Bene, allora, vi vogliamo dire un'altra cosa. Non perdetevi il video di domani, perché domani grandi occasioni. Quindi vi prepariamo già da oggi. Domani, più o meno a questa ora, video occasioni. Vi ringraziamo tanto e vi salutiamo. Ciao. Con un bacione. Ciao. Ciao. Ciao.